Siamo con il dottor Gianluca Bocchi della Galleria d'Orlandi Casal Maggiore. Lei è uno dei massimi esperti internazionali per quanto riguarda la natura morta italiana. Come nasce questa passione? La passione nasce verso la metà degli anni Ottanta, dalla frequentazione dei maggiori studiosi dell'epoca, che erano Federico Zeri, Luigi Salerno, Mina Gregori e l'americano John Spike. Sono stati loro a dirmi indirizzati in questa direzione. Inizialmente l'ho fatto solo a livello mercantile, ma subito dopo l'ho fatto anche a livello di studio e di ricerca che poi sono diventate il motivo trainante della mia passione in questo settore. Lei ha pubblicato varie opere di prestigio, proprio studi sulla natura morta, che sono in possesso delle principali biblioteche internazionali, dei principali musei internazionali. Come ci si può orientare in questo settore? Ma a chi volesse avvicinarsi all'opera d'arte di Natura Morta del 600, questo fu il secolo d'oro, direi innanzitutto che deve trasmettergli un'emozione. In secondo luogo si deve affiancare a un grande studioso o comunque a un grande esperto che possa trasmettergli tutti quei rudimenti che sono assolutamente essenziali per capire l'oggetto che ha davanti, perché conoscenza è la base fondamentale per poi apprezzare sempre di più ciò che si vede. Ecco, quindi l'opera d'arte è un investimento? Direi che mai come in questo momento, negli ultimi vent'anni, l'opera d'arte antica, compresa la natura morta, sia un vero investimento, perché i prezzi si sono stabilizzati a dei livelli veramente molto interessanti, potrei anche definirli speculativi, in un'ottica di medio periodo. Grazie mille per i suoi consigli e per il suo tempo. Grazie a lei.